Benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Commentando appunto i dati ormai ufficiali delle elezioni generali in Gran Bretagna direi che si possono ottenere le somme. Tra l'altro questa mattina, oggi, si è insediato il governo Starmer. In realtà già ieri pomeriggio il re Carlo aveva incontrato Starmer proprio per dargli l'incarico di formare un governo e fortunatamente in Inghilterra hanno una velocità nel formare i governi che è lodevole, dobbiamo dirlo. Che è successo? Anzitutto c'è stata una valanga, diciamo di seggi attribuiti ai laboristi. I laboristi hanno vinto 411 seggi, a questi dovremmo togliere comunque il seggio del speaker Sir Lindsay Hoyle che di prassi non vota e quindi non fa parte della maggioranza, ma comunque sempre un laborista che è stato riconfermato al suo seggio. I conservatori hanno invece perso non solo in voti ma anche in seggi, arrivando a una maggioranza che nel 2019 credo fosse intorno ai 260 deputati e che ora si sono ridotti a poco più di un centinaio, 220, giù di lì. Un disastro, scusate, 300, la maggioranza era di 360, quindi hanno perso più di 200 deputati e tra i big che sono stati esclusi ci sono per esempio l'ex primo ministro Leeds Trust, che forse la ricorderemo soltanto per il suo, forse per il governo più breve, tra i più brevi se non addirittura il più breve della Gran Bretagna, di meno di due mesi. Ma è stata esclusa anche l'ex leader della Camera, quella che è la figura che negli Stati Uniti e nel Congresso, nella Camera e nel Senato è il leader di maggioranza, cioè si occupa della legislazione della maggioranza all'interno della Camera, in questo caso della Camera dei Comuni. Penny Mordotte che è stata esclusa e che tra l'altro era forse anche la favorita in alcuni sondaggi a succedere a Rishi Sunak, l'attuale ormai dimissionario leader del Partito Conservatore, che bisogna dire molto più correttamente di alcuni nostri leader che dopo sconfitte clamorose ancora si ostinano a guidare partiti e movimenti, ha affermato che si ritirerà dalla carica di leader del Partito Conservatore. Probabilmente ancora non è stata annunciata una data, ma io immagino che da qui a qualche settimana si avranno già intanto, da qui a qualche giorno ci saranno le prime grandi candidature, poi si stabilirà la data, insomma io credo che tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno si procederà con l'elezione del nuovo leader del Partito Conservatore o della nuova leader del Partito Conservatore. Analizzando abbiamo visto che un dato allarmante ed è una tendenza in realtà di molti paesi europei, quella dell'aumento dell'astenzionismo. Di solito gli inglesi sono sempre, forse credo che tra i paesi, tra le grandi democrazie siano il paese che tra i più di tutti ha un alto numero di votanti, di solito votano dal 60, abbondante 60 per cento degli aventi diritto, cosa che in Italia ormai possiamo diciamo quasi sognare. Anche in America i votanti cominciano a scendere, gli elettori sono sempre di meno, grande segno di insicurezza e instabilità del sistema democratico, dei sistemi liberali occidentali. quindi e da molti anni, credo da vent'anni, forse anche più, la soglia dei votanti è scesa sotto il 60 per cento, per carità siamo al 59,9% giusto dei votanti, ma comunque numericamente sotto il 60 per 60 per cento. Circa sette punti meno rispetto alle scorse elezioni, dato abbastanza grave. Cosa è successo? Le elezioni del 19 avevano visto guidare, i conservatori erano stati guidati da poco da Boris Johnson che aveva richiamato le elezioni anticipate, il primo ministro è colui che chiama, che può sciogliere il parlamento e può indire nuove elezioni e aveva detto delle elezioni anticipate nell'onda della sua popolarità per rafforzare la maggioranza, cosa che appunto avvenne con un buon risultato per i conservatori e un pessimo risultato per i laboristi che per l'appunto guidati ancora da Jeremy Corbyn persero ulteriormente e Corbyn si dimise dalla carica e venne eletto Keir Starmer e tra l'altro Corbyn è stato, si è ripresentato a queste elezioni come indipendente nella sua circoscrizione, vincendola tra l'altro e rimane in Parlamento, ma che io sappia, pur essendo un governo guidato e una maggioranza dei laboristi, non ha deciso di tenersi all'opposizione. È comunque una voce ancora ascoltata perché fa già parte della sinistra del partito, un uomo comunque che ha fatto delle battaglie che certamente poco avrebbero potuto convincere gli elettori, un partito come il partito laborista sempre vinto, almeno negli ultimi anni dalla fine della guerra fredda, grazie a dei leader moderati come Tony Blair, come appunto Keir Starmer, che fa parte dell'ala più di destra del partito, quella moderata, nei conti così, di un liberalismo sociale, così, economicamente ha fatto delle promesse di aumentare le tasse, ma io credo che aumentare le tasse per i super ricchi e per le grandi aziende soprattutto, ma non credo che faranno molto. I conservatori invece hanno avuto una caduta, ora si è sentito grande vittoria, come la chiamano i paesi anglosassoni, landslide victory, che sarebbe appunto quindi una vittoria, potremmo dire, definire in Italia appunto, una vittoria schiacciante. Sì, beh, il sistema elettorale britannico, che è un sistema complesso, perché è un maggioritario uninominale secco, così, dove ci sono 650 circa seggi divisi per tutto il Regno Unito, dove in quel seggio, in quel collegio, in quella circoscrizione, il candidato si presenta e anche con un voto in più rispetto agli altri vince e si prende tutto il seggio. In Italia abbiamo anche forme di proporzionale, collegi plurinominali, comunque, beh, è molto diverso, simile a quello americano, ecco, che comunque favorisce i grandi partiti o i partiti locali, quindi in Galles, in Scozia, in Irlanda del Nord, sono favoriti i partiti locali, partiti nazionalisti, repubblicani, indipendentisti, secessionisti, di cui ora un attimo parleremo. E quindi i laburisti hanno preso circa il 33,8% dei voti. Non è una grande vittoria. Certo, la presenza di partiti che a destra, un partito come il Reform UK di Nigel Farage, che ha comunque avuto un ottimo risultato, ma che ha guadagnato soltanto quattro seggi, compreso quello di Farage, il quale ha criticato aspremente questo sistema, ma non ha tutti i torti, in effetti, perché è un sistema elettorale poco rappresentativo. In realtà Farage è stato anche tra i grandi, coloro che hanno penalizzato di più il partito conservatore, perché non ha fatto altro che prendere il blocco della destra, anche in collegi sicuri e forti, dove la destra è sempre andata, era sempre vinto nelle campagne dell'Inghilterra centrale, centro-meridionale, diciamo nelle zone anche più ricche, dividendo l'elettorato conservatore e l'elettorato di destra in due e favorendo quindi altri come i liberal-democratici, che hanno avuto un buon risultato, un ottimo risultato, 60, circa 60-61 deputati e anche i laboristi. I conservatori hanno segnato la peggiore sconfitta dalla loro fondazione ufficiale come partito conservatore ed è una cosa veramente preoccupante per loro, che dovranno appunto rinnovarsi necessariamente. Quindi male sono andati anche gli indipendentisti scozzesi, lo Scottish National Party, che in Scozia ha sempre vinto, solo che da un paio d'anni la leader storica e primo ministro scozzese, che loro chiamano First Minister, il Prime Minister è il primo ministro del Regno Unito, poi ogni nazione ha il suo First Minister, che ha delle competenze e delle autorità però molto ristrette. Lei si era dimessa, lasciando prima la leadership del partito al, mi pare di origine pakistana, Youssef, e poi all'attuale leader che è stato eletto pochissimi mesi fa, tra l'altro, e hanno preso soltanto una decina di seggi sui, mi pare, 50-60 seggi che spettano agli scozzesi. È andato bene il partito dei Verdi, che ha aumentato anche lì i voti, non tanto i loro seggi. Ora, il partito conservatore ha perso non solo per Farage, che sicuramente ha segnato un avversario da destra molto pericoloso, e badiamo che se, non è detto, ma se il partito di Farage, il Reform UK e il partito conservatore fossero rimasti insieme, o comunque il partito di Farage fosse così un partito molto piccolo, di minore importanza, che voleva prendere magari il 2, il 3%, un 10% sarebbe riandato ai conservatori che probabilmente avrebbero anche potuto, non dico restare al governo, quello no, ma avere una sconfitta molto più contenuta. E avrebbero sicuramente sfavorito i laburisti. Poi non è detto, perché non è non sempre due partiti a destra che si uniscono sommano i loro voti, molto spesso alcuni voti si disperdono, quindi non è detto. Ma sicuramente molti che hanno votato il Reform UK provenivano dalle file del partito conservatore, come elettori, come conservatori, come cittadini conservatori, ma delusi dalla politica degli ultimi, diciamo, cinque anni del partito conservatore, quattro anni, diciamo, dalla metà, dall'inizio del covid con i vari scandali di Johnson, le sue dimissioni, il brevissimo governo della Trust, che non ha fatto altro che mettere scontento anche il discreto in questo partito, la guerra in Ucraina, la quirsi della crisi economica mondiale, e Rishi Sunak, che francamente è stato un politico ben poco efficace. E hanno puntato su temi molto cari alla destra attuale, l'immigrazione, sicuramente il grande tema spinoso, cancellare i privilegi, cercare un po' di... i soliti partiti populisti di destra che vogliono, diciamo, avvicinarsi alle classi... si avvicinano alle classi inferiori con temi molto cari come cercare di aiutare economicamente queste classi inferiori, tagliare tasse di qua e di là. Molto confuso, ma, vabbè, assolutamente fuori dall'Unione Europea, continuare a restare fuori. Ma, chiariamoci, anche il partito lavorista non ha mai detto di voler ritornare alla Unione Europea. Forse, se il mercato europeo, se l'Unione Europea dovesse rifiorire da qui a cinque anni, quanti sono gli anni che dura normalmente una legislatura inglese, e gli inglesi dovessero rendersi conto che da soli, senza il mercato europeo, non riusciranno e quindi, eh, potrebbero richiedere... ma credo che sarà una cosa che da qui a... se ne potrà iniziare a parlare almeno fra cinque anni. Almeno. Tutto sta a vedere poi di come evolveranno, ma non credo che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, tornerà nell'Unione Europea. Non so se mai lo farà. Quindi Starmer ha una grande responsabilità, quella di, cioè di dare, ridare fiducia a un certo elettorato che comunque è di un ceto medio, eh, non è che ci sia proprio un ceto basso, basso. Il partito lavorista così non è ormai tanto vicino alle classi lavoratrici, si è più aperto su temi dell'immigrazione, temi sociali, cercare un pochino di riformare il welfare, soprattutto l'NHS, il sistema sanitario nazionale, che secondo me potrà essere riformato fino a un certo punto, sì, potranno alleggerire qualcosa, ma non fino a... non quelle grandi riforme. Hanno promesso, leggevo 300.000 case nuove all'anno e costruiscila. Da dove li prendi questi soldi? Eh, se la loro proposta è di aumentare le tasse ai grandi, ricchi, insomma, se riusciranno a farla, ma non è che recupereranno chissà quanto, per quello che vogliono fare loro in una situazione di stagnazione dell'economia britannica e anche di aumento dell'inflazione. Quindi la situazione sarà molto complessa. Vi dico la verità, io ritengo che questo voto in Gran Bretagna non è stato un voto di come poteva essere per Tony Blair nel 97, è molto diversa la situazione. Tony Blair... le circostanze erano simili, ma Tony Blair ha avuto anche una grande affluenza del voto popolare. Tony Blair era un uomo carismatico, è un uomo carismatico, vivo ancora, un uomo che aveva promesso un cambiamento, magari restando nel solco del liberismo economico, ma un'apertura, tentare di così, la terza via, cara, Blair, Obama, Clinton, un po' simile a Renzi per alcuni aspetti, quindi alla sinistra molla, al centro-centro-sinistra, sempre di destra da un punto di vista economico, ma aperto a temi sociali, vabbè, tentare di diminuire le disparità sociali senza però toccare i grandi valori sindacali, che lì non si toccano più di tanto, ormai non conviene molto. Ma non è che ci sia stata un'affluenza di voti verso i conservatori così grande, quasi plebiscitaria, che possa anche giustificare la loro maggioranza così esorbitante, hanno una maggioranza di un'ottantina, più di un'ottantina di seggi, non è poco, è tantissimo, per aver preso il 38%, scusate il 33%, 34% quasi, c'è una grande disparità. Il problema è che, come è successo in Germania, dove si è cercato un'alternativa al governo di centro-destra, con dei governi di centro-sinistra, come quello di Scholz, o in Spagna, benché lì si tende ad andare un po' più a sinistra, o in, anche, per questo, in Olanda, in Belgio, in Norvegia, in Danimarca, dove questi governi di centro-sinistra, sempre atlantisti, sempre occidentali, sempre comunque liberisti, per quello che in realtà la gente vorrebbe, loro rappresentano un'alternativa a parole, ma nei fatti rimangono praticamente molto simili ai governi precedenti, quindi il bipolarismo, che ormai è arrivato all'esasperazione, perché, come anche in Italia, in Italia abbiamo avuto prima Berlusconi, il centro-destra, poi il centro-sinistra, poi il centro-destra, poi il centro-sinistra, ogni elezione cambiavamo, e vedevamo che ben poco cambiava, e per questo si è data grande forza ai partiti del populismo di destra e di sinistra, cioè il Movimento 5 Stelle, la Lega, questi movimenti che tentano di antisistema, chiamiamoli così, ma, e quindi, io credo che il governo Starmer durerà, perché durerà, secondo me, a meno che non si dimetta, ci siano qualche scandalo, ma comunque i laboristi rimarranno al potere per cinque anni. E questo, però, bisognerà da qui a cinque anni se riusciranno a fare qualcosa. Io ricordo che, subito dopo le elezioni di Norvegia, l'attuale primo ministro di centrosinistra, che dopo i lunghi anni di Erna, mi pare, Solberg, primo ministro e conservatrice del Norvegia, i norvegesi avevano votato per un cambiamento, non ricordo, scusate il nome dell'attuale primo ministro norvegese, comunque, di votare al partito del centrosinistra, che aveva avuto una maggioranza, maggioranza un po' relativa, ma praticamente pochi mesi dopo, già subito i sondaggi mostravano un calo della sinistra e un aumento della destra, e anche in Germania, dove il partito socialdemocratico, completamente, o i Verdi e anche i Liberali, non ne parliamo, scendono in tutti i sondaggi a favore della CDU tedesca e di Alternative Frankfurt, Deutschland, quindi, secondo me questo potrà accadere anche in Gran Bretagna, magari non subito, però da qui a un anno, se il governo non farà qualcosa di talmente radicale, eccezionale, da guadagnarsi i voti degli scontenti, potrebbe rimanere saldo nelle sue posizioni e guadagnarle, ma magari con un nuovo leader del partito conservatore, magari qualcuno un po' più forte come idee che si avvicini, porti il partito conservatore anche un po' più a destra, in maniera tale da prendere anche i voti del Reforma UK e ridare forza ai conservatori, magari di qui alle prossime elezioni locali, che sono un po' le elezioni che servono per capire un po' l'andazzo del paese, i conservatori riprenderanno respiro, i laboristi non sfonderanno, o i liberali caleranno, e poi le elezioni in Scozia, vedere se i laboristi riusciranno a conquistare il governo scozzese dopo tanti anni, oppure caleranno, rimarranno nel secondo posto, o in Irlanda del Nord è anche lì la situazione, vedere nei sondaggi come andrà il partito, potrebbe esserci una caduta del partito lavorista da qui a già un anno, o a sei mesi, secondo me, tutto sta a vedere, non è facile quello che dovrebbe fare Starmer, hanno cambiato leader, hanno cambiato partito, ma la situazione in Inghilterra, in Gran Bretagna, scusate, l'abitudine, nel Regno Unito non cambierà di molto. Bisogna vedere anche la situazione internazionale, come si evolverà, se qualche conflitto, come la guerra in Ucraina, dovesse acquirsi, e i mercati magari tornare un po' a una situazione di serenità, magari potrebbe, questo potrebbe non solo in Gran Bretagna, ma in tutto l'Occidente, dare respiro all'economia globale e quindi far resistere comunque i partiti di sistema, ma a quanto pare ancora c'è un grosso malcontento. Vedremo quindi come si evolveranno le cose, quindi è un risultato, ma è un risultato buono per il partito laburista, sì, e ritornano al governo dopo 14 anni di governo conservatore, ma non credo che dobbiamo farci delle illusioni su una nuova ondata di socialdemocrazie, di governi di centro-sinistra in Europa, questo mi sembra addirittura fiabesco. Quindi tutto starà, questi mesi, questi ultimi sei mesi del 2024 saranno importanti, vedremo intanto domani le elezioni in Francia, sui quali spero di poter fare un video, e anche il ballottaggio finale delle presidenziali in Iran, e poi le elezioni, le primarie, bisognerà vedere se Biden si ostinerà a candidarsi, se ci sarà un supplente, non so, se la Kamala Harris o Michelle Obama o Gavin Newsom, qualche altro governatore, ma mi sembra che il tempo anche sia troppo poco, se si continuerà con Biden e quindi a una, mi sembra, chiara e ovvia sconfitta e comprensibile degli democratici, e un ritorno alla presidenza di Trump, tutto bisogna vedere. Saranno dei mesi importanti. Io credo comunque che la tendenza a scegliere partiti e a scegliere movimenti antisistema, molto spesso di destra, di estrema destra, talvolta anche di estrema sinistra, sempre di populismi di sinistra, come in molti paesi del Sud America, tutto è nelle mani appunto di questi sei mesi di quest'ultimo, di quest'anno molto intenso. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.